E' ben terminata la prima demo live dell'area CCTV e avete presentato come JVC la Super Lowlux HD2 che ha una grandissima sensibilità alla luce. Cosa fa questa telecamera? Questa telecamera è particolarmente apprezzata dai nostri operatori perché ha una sensibilità enorme con rispetto alla versione precedente di un 30% maggiore di sensibilità. Quindi abbiamo re-ingegnerizzato tutto quello che era all'interno di questa telecamera con un sensore di nostra produzione, in quanto JVC ha acquistato AltaSense che è una fabbrica che produce sensori e in questo momento riusciamo a dare con questa nuova gamma Super Lowlux HD2 delle migliori performance con un'ingegnerizzazione migliore. Siete presenti a sicurezza all'interno dell'Ecosystem Village, come mai questa scelta? Questa scelta è stata mirata grazie al fatto che essendo storicamente stati dei partner milestone per quanto riguarda l'interno dei nostri NVR per storicità, soprattutto per questo ma anche perché abbiamo ritenuto opportuno che sia un'area ben identificata con un'affluenza di un certo tipo e di conseguenza per poter proporre i nostri prodotti in maniera più ottimale. Siete soddisfatti di questa affluenza? Fino adesso siamo sicuramente soddisfatti, siamo sicuri che potrà solo che migliorare perché questa fiera, Sicurezza 2014, era aspettata e sentita.